Eccolo lì l'uomo, l'uomo dall'idee ferre, immutabili, quelle. Fino a un mese fa Salvini giurava che l'accordo fra Lega e Putin non esisteva. Fatemi dire, Salvini, non esiste nessun accordo con Mosca, 23 febbraio. Adesso si deduce che invece l'accordo esisteva. Salvini chiude con Putin, l'accordo non vale più. Ma allora esisteva, ma non vale più. Fino a un mese fa era sicuro di candidare bannacce alle europee. Salvini conferma voglio candidare bannacce il 12 marzo. E adesso dice che ci sta pensando bannacce, ci penso. Sui gay abbiamo idee diverse. Il 3 aprile. Lui cambia idea a seconda dei sondaggi. Alle ultime europee la Lega era al 34%. Adesso Salvini spera di arrivare al 7%. Sennò i suoi lo fanno fuori. La lettera dei leghisti di Bergamo e Brescia contro Salvini. Caro Matteo, siamo federalisti. Niente svastiche e fasci. E allora lui come risponde? Fatemi vedere. Salvini, non mi sento di destra. Sono antifascista. Guerra, sto con Kiev. Ancora un punto in meno nei sondaggi si fa incatenare a fianco di Ilaria Salis, ve lo giuro. I quotidiani non fanno in tempo ad aggiornare le pagine online che Salvini se ne inventa sempre una nuova. Edilizia Salvini rilancia il condono. Un altro condono edilizio. Capite che Salvini è disperato, non sa più a che santo votarsi. Ecco perché negli auguri di Pasqua si è vestito da prete il Don Matteo del tracollo elettorale. Guardatelo.